Questa settimana si è riunita la Commissione Sanità del Consiglio regionale, che ha deciso all'unanimità di rinviare a settembre, per un ulteriore approfondimento, la delibera sulla revisione della residenzialità psichiatrica. In settimana si è anche riunita la Commissione Lavoro, che ha esaminato il disegno di legge per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali. Una delegazione di cuochi cubani in Piemonte per svolgere un tirocinio formativo sulla cucina italiana è stata ricevuta a Palazzo Lascaris dalla vicepresidente del Consiglio regionale. L'evento è stato promosso dall'Associazione Cuochi di Torino e Provincia. Più di 2 milioni di pagine e di 103 giornali locali del Piemonte dal 1846 ad oggi. Sono i numeri del portale www.giornalidelpiemonte.it, un patrimonio prezioso sulla storia del territorio, fruibile da tutti su una piattaforma online. Scade il prossimo 13 ottobre l'edizione 2016 del premio Gianni Oberto, concorso bandito dalla Biblioteca della Regione Piemonte per promuovere e diffondere la cultura piemontese. Il bando è riservato a laureati in discipline letterarie e umanistiche presso le Università Piemontesi. Sono 18 le mostre itineranti del Consiglio regionale che possono essere richieste in prestito gratuito e allestite presso enti piemontesi. Nella sezione mostre del sito dell'Assemblea è consultabile e scaricabile il catalogo con le esposizioni disponibili. Il Consiglio regionale è anche su Telegram. Utilizzare il bot è molto semplice, è sufficiente scaricare l'applicazione dai principali store, cercare l'utente e avviare il canale. 4 le funzionalità previste con un aggiornamento quotidiano delle principali attività dell'Assemblea.